Nel 2021 sono aumentati i nuovi utenti del CERD rispetto a quelli presi in carico tradizionalmente. Sono ben 135, emergono dati interessanti ma al tempo stesso preoccupanti dal CERD, snocciolati dalla dottoressa Daniela Spaziani, la responsabile. Viene fuori che all'Aquila, ad esempio, sono quasi scomparsi i aeronomani, che sono soltanto sei in carico, mentre si è diffuso sempre più il consumo di cocaina ed è molto presente l'abuso di alcol anche tra i giovanissimi, tant'è che ci sono casi in aumento nella fascia 15-20 anni. Molti giovani sono presi in carico al CERD anche dopo episodi di risse e violenze. Un altro dato interessante è quello dei giocatori d'azzardo. Il problema è che già nel primo semestre 2022 abbiamo avuto già un rialzo perché dai 38 dell'intero anno abbiamo già 45 utenti in carico per gioco d'azzardo. I ragazzi e anche i giovani adulti utilizzano molto di più cocaina crack piuttosto che eroina. Stiamo sempre andando sempre di più verso questa tipologia di tossicodipendente che è quello più sommerso perché non si sente tossicodipendente, perché non riconosce il problema. Non vengono tanti giovani per consumo di cocaina e i giovani sono venuti più per consumo di cannabis e intossicazione alcolica acute. però abbiamo avuto un aumento di utenti nella fascia di età mi pare 15-24 anni per consumo di cannabis e anche per problemi che hanno dato da un punto di vista sociale. L'occasione per parlare dei dati relativi alla città è data dalla presentazione di un progetto in comune Guida la tua vita per evitare incidenti stradali proprio dettati dalle dipendenze. Un progetto finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vede il Comune dell'Aquila a capofila con tanti tantissimi partner. 250 mila euro di risorse con l'associazione Vides che materialmente andrà tra ragazzi. Il Comune ha detto il Sindaco purta molto sulla prevenzione. Si farà attività naturalmente di comunicazione ma anche attività di reperimento dati. Ci saranno delle borse di studio per fare proprio una ricognizione sull'incidentalità, sulla formazione degli insegnanti e poi ci saranno anche gli incontri sul territorio con l'associazione Vides, con un camper. Incontreremo proprio i ragazzi, cercheremo di capire gli elementi di disagio.